È importante andare a votare il 12 e 13 giugno per i quesiti, per il merito, ma soprattutto perché è l'occasione per dare dopo le amministrative un'altra spallata a questa maggioranza di centrodestra che sta facendo così tanto male al Paese. È importante perché si tratta di fare una grande battaglia a difesa dell'acqua come bene pubblico, una battaglia contro il nucleare dopo aver vinto il tentativo di esproprio della maggioranza che voleva impedire il referendum e soprattutto di eliminare quella norma sul legittimo impedimento che Berlusconi ha voluto violando il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Quindi andate tutti a votare.